Ad Alba Adriatica un turista di Roma è morto per un malore in acqua mentre faceva il bagno. La tragedia è avvenuta intorno alle 11.30 quando è scattato l'allarme nel tratto antistante degli stabilimenti Al Faro e Hotel Lido. L'uomo di 71 anni ha accusato un improvviso malore e il genero che era a fare il bagno con lui ha chiesto l'intervento degli addetti al salvamento. I soccorsi prestati anche con un defibrillatore dagli uomini del 118 sono però stati purtroppo inutili.